Negli ultimi anni il fabbisogno di energia è diventato sempre più importante, sia durante la vita quotidiana, sia quando si decide di fare una gita fuori porta, o ancora di più in un viaggio on the road, magari a bordo di un camper. E per far fronte a tale bisogno, una soluzione molto utile non solo da utilizzare tra le mura domestiche in caso di emergenza, ma anche da portare comodamente con sé, è rappresentato dalle stazioni energetiche portatili, dispositivi che consentono di avere sempre a disposizione una buona quantità di energia per gli usi più differenti. E a tal proposito vi presentiamo un interessante prodotto targato All Powers, la Power Station portatile R600. La All Powers R600 è un apparecchio progettato per essere compatto, versatile e facile da trasportare, ma allo stesso tempo in grado di offrire una potenza sufficiente per caricare più dispositivi contemporaneamente. Una soluzione quindi ideale non solo per essere utilizzata nel proprio tempo libero, ma magari anche per essere sfruttata per poter lavorare al di fuori delle classiche quattro mura. E approfittiamo quindi di questa bellissima ambientazione in plein air per vedere più nel dettaglio le sue caratteristiche salienti. Innanzitutto partiamo con l'evidenziare il fatto che la All Powers R600 è una stazione energetica dotata a suo interno di batteria a litio da 299 Wh, con ciclo di ricarica veloce tramite presa a muro, che va da 0 a 100 in soli 60 minuti. Viene inoltre già fornito di serie anche un cavo per poterla eventualmente ricaricare tramite dei pannelli solari portatili, in questo caso però i tempi di ricarica si allungano leggermente. La All Powers R600 è poi dotata di un inverter da 600 W di potenza a onda sinusoidale pura, che grazie alle due prese Shuku a 230 V presenti consente di alimentare o ricaricare diverse apparecchiature, come ad esempio un computer portatile, un rossoio elettrico o la batteria della macchina fotografica. Sempre nella parte frontale ritroviamo poi una classica presa a 12V, due prese USB classiche e altrettante USB-C, tutte raggruppate in aree ben definite e attivabili singolarmente, ma allo stesso tempo utilizzabili anche contemporaneamente fino al massimo della potenza erogata da questo dispositivo. Non manca poi una piccola torcia frontale e il display digitale che fornisce indicazioni sullo stato di ricarica della stazione energetica, la potenza erogata in input o in output. Superiormente ritroviamo invece un pad dedicato alla ricarica wireless dei dispositivi mobili, mentre lateralmente si notano alcune fessure pensate per migliorare la reazione della batteria. La stazione energetica All Powers R600 può inoltre essere monitorata in tempo reale via Bluetooth tramite app direttamente dal proprio smartphone. Essendo un generatore di corrente portatile, due delle sue caratteristiche salienti sono ovviamente le dimensioni contenute e il peso non troppo elevato. Quest'ultimo in particolare non raggiunge i 6 kg e la comoda maniglia superiore ne consente un facile trasporto anche in ambienti esterni, senza alcuna difficoltà. Inoltre, come potete vedere, il reale spazio fisico che occupa questo dispositivo all'interno dell'abitacolo di un comune semintegrale di medie dimensioni è davvero poco, potendo quindi decidere di stivarlo dove meglio si ritiene. E a tal proposito, che cosa succede se invece di essere a bordo di un semintegrale ci ritrovassimo a bordo di un piccolo van durante il nostro viaggio on the road? Niente paura. Nonostante si è risaputo il fatto che all'interno di un furgone camperizzato gli spazi di stivaggio devono sempre fare i conti con i pochi centimetri a disposizione, le dimensioni compatte dell'All Powers R600 permettono di trovare un angolino dove stivarlo senza difficoltà. Inoltre, le sue dimensioni ne consentono anche un utilizzo nel suo piccolo living, appoggiandolo direttamente sul tavolo, magari a fianco del proprio computer portatile, per poter lavorare tranquillamente da remoto. L'All Powers R600 non si sposa però solamente con l'utilizzo a bordo di un camper, ma proprio per le caratteristiche salienti che lo contraddistinguono, la sua versatilità è notevole, anche in moltissime situazioni comuni. Perché dunque non sfruttarlo ad esempio durante una semplice scampagnata in giornata, all'aria aperta in mezzo alla natura, per seguire le proprie passioni oppure per godersi qualche momento libero in totale relax, magari con un po' di fortuna ammirando anche qualche scorcio molto suggestivo. Grazie per la visione!